Il progetto Repitra presenta un nostro ordinario risultato perché è il primo risultato conseguito in tutta Europa su un progetto di ricerca che è finalizzato a rafforzare e a potenziare la salute. La salute attraverso politiche di produzione e di consumi alimentari, la salute attraverso scelte consapevoli da parte delle industrie produttrici ma poi anche dei consumatori. Per questo è assolutamente importante potenziare queste iniziative perché attraverso queste iniziative si creano le premesse non solo per fare ricerca di qualità ma anche per creare le condizioni che consentiranno al nostro territorio, che consentiranno alla nostra economia di concentrarsi su produzione ad alto valore aggiunto e di creare occupazione e creare benessere. È un benessere come tutela della salute e è un benessere anche economico come potenziamento dello sviluppo del territorio. Io ringrazio l'Università di Termo e le altre due università abruzzesi che si rendono protagonisti circa la progettazione e la progettazione di qualità per arrivare a questi fondi per stimolare con forza la ricerca, l'innovazione e l'economia della nostra regione. Noi abbiamo una grandissima opportunità che sono i fondi comunitari dei prossimi sette anni, 14-20, sia i fondi diretti che i fondi indiretti. Ringrazio il magnifico Rettore per il lavoro che sta conducendo circa la realizzazione di questi progetti. Sono fondi assolutamente importanti, consistenti e attraverso progetti di qualità noi riusciremo a dare delle risposte economiche e sociali importanti alla nostra regione.